Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo in compagnia di questo copo qua, il pazzo dell'altra volta, e Marco. Vi ha salutati Marco. Dobbiamo fare ancora la finale. La finale la faremo troppo. Questa partita è particolare, che praticamente non è successo niente, perché c'è il fatto che lui erano amici, adesso gli sono sottotiro, abbiamo completato la pressione squadra, e dobbiamo fare pressione di sospetto, vabbè non me lo ricordo. Vabbè lui le ha finite tutte, però io almeno ce le ho finito. Grazie. Grazie. Questa, ma io l'ho completato tutti gli ottimizzatori. Sì, devo vedere, devo vedere. Ah sì, l'ho completato. Anch'io me l'ho completato. No, io non l'ho, io fare l'apocaio. Ah, comunque il pazzo dell'altra volta, vuole fare una challenge solo armi esotiche. e mitiche. E sicuramente io, forse è questa... No, 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 è la taglia, se non sognavo... Quanti sono, che si mira che ho! Ce la facciamo a prenderlo, uno ho preso. E io non capisco più niente, mi sta laggando. Quello nemico mi ha fatto arrabbiare. Quando mi fa arrabbiare spanno. Mefo il nenico. … Tu lancerai. … Ma ti passa. Ma. Non lo sapò. No, no, ma. Ma dove? Da dove? Da. Dov'è che sono? Ma dov'è che sono? Ma io non vedo una scena Mamma mia sto ecco da i etro E' che è rivolta E' rivolta E' una scena Oh io ho 3 kg almeno Vediamo se sono l'ultimo No sono secondo Ma io sento i nemici ma non li vedo Cioè è vero? Dov'è che sono? Sento spari Sento che voi chillate Non avete anche sperato Oh mamma Ah no è Francesco Mamma dove è questo? Com'è che è questo? Dov'è che spara? Vabbè io vedo cosa accade allora Cioè sento cosa accade E rimango sempre io perché Che ero un po' dove Almeno questo lo uccido Almeno Ma non mi cura così Ma mi sta curando da solo Ehm Arrivo Adesso ti cura Cazzo Non ce l'ho pensato Muoio Eh mi si sono modificate le scale Ma quando ho spiegato sono Ma adesso la si Eh ecco guarda guarda Ehm Oh oh è se non confuso E non ti posso più restare Allora io sono uno da solo Due V2 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 V1 No V1 V1 Lo cecchino Non sta fermo No Non mi lagga E dov'è che è questo? Non lo potete più restare E meno uno Siamo due V2 V1 V1 Sempre No ma se siamo in 6 Due V2 V1 V1 Perché siamo in 6 Oh che palloncini E' vero 3 V3 V1 No 3 V1 V1 E' vero Io mi ero così Adesso due V2 V1 No tre V1 No tre V1 V1 E non c'è dove sono No tre V1 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 Ma è bello Ma è bello questo Oh uno l'ho ucciso Vabbè Vabbè almeno uno l'ho ucciso Per questo video è tutto Ciao 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 Ciao